Una notizia importante, bella per il sud della regione Lazio che in passato è stata completamente dimenticata e oggi la Giunta Rocca riesce a destinare delle risorse importanti per la sicurezza stradale, per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei palazzi regionali all'interno del MOF, ben 36 milioni di euro, di cui 26 per la sicurezza stradale, 16 milioni e 228 mila euro per la messa in sicurezza della Flacca Formia Gaeta e altri 10 milioni di euro per la messa in sicurezza dell'Ausoni Formia Cassino. Ci sono altri 10 milioni di euro che vengono investiti all'interno del MOF e quindi tanta attenzione sia alla sicurezza del cittadino sia allo sviluppo economico del nostro territorio. Il MOF è uno dei mercati ortofrutticoli più importanti d'Europa e quindi è giusto destinare delle risorse per non perdere la competitività, per essere sempre al passo con il mercato, per dare risposte alla domanda e quindi degli interventi importanti che sicuramente migliorano la competitività, creano sviluppo economico nel sud della regione Lazio e questo sicuramente è una risposta importante dopo che i nostri territori della provincia di Frosinone e della provincia di Latina sono stati esclusi dalla Zessa. Sicuramente non si istituiscono quegli interventi importanti che mi auguro che il governo ci ripense, che possano essere oggetto di ulteriori interventi in queste zone cuscinetto e quindi sono molto felice che 26 milioni di euro siano stati destinati alla sicurezza stradale e 10 milioni di euro al mercato ortofrutticolo di fondi.